Siamo con il fotografo creativo Amos Crivellari all'Aldomoro, dove oggi, il 15 marzo, si inaugura la sua ultima mostra, dal titolo Risvolti. Ci può brevemente illustrare che tipo di tecniche e cosa propone questa mostra? Sì, allora, questa mostra, diciamo, fotografica o arte visiva, ancora meglio, ma comunque è improntata alla mia ricerca, che faccio da quasi 20 anni, dopo aver fatto anche il bianco e nero classico, sugli effetti del mosso. E cioè, praticamente, io interpreto lo scatto facendo dei movimenti ispirati con la fotocamera. E se sono diretti, appunto, verso, per esempio, in segni luminosi, in segnalo, si crea un effetto astratto cromatico. Recentemente ho abbandonato, cioè, per il momento ho accantonato quel progetto lì e mi sono dedicato alle riprese col mosso sempre, ma sui volti umani. Anche questi, naturalmente, illuminati, per esempio, la sera, illuminati da luci che possono essere le luci di una palca, le luci di una sagra, no, ma altrimenti, ecco. E quindi ottengo, sempre facendo un mio movimento personale, diciamo, ispirato, ottengo una specie di trasformazione, o se vogliamo, anche deformazione del volto, per via esclusiva dello scatto, non poi dopo informatica o computer, assolutamente. Quello che si vede nei miei quadri rappresenta proprio, e questa volta può anche sorprendere, perché chiaramente la persona è quella lì, ma difficilmente si può riconoscere, perché i lineamenti non sono trasformati in senso proprio che, no. Però si può, come dire, interpretarli simpaticamente come qualcosa che non esiste in realtà, ma che è sempre lui, ecco. Ecco, ci può dire quanti sono i lavori della mostra, e se ce n'è qualcuno così che particolarmente l'ha entusiasmato? Sì, direi che, esatto, e qui ce n'è dunque in tutto mi pare 18, sì, e in diverse misure, preferibilmente 50x50 oppure 80x80. Ecco, ce n'è uno che ha avuto un certo riscontro, perché ha vinto un premio anche a Firenze in un concorso nazionale, ecco. Ed è quello poi che si vede anche sul dépliant, dove c'è la mostra, e si vede una figura di donna, diciamo, e naturalmente sempre un po' sfumata così, e con delle luci blu. Ecco, queste luci blu non erano altro che delle lampade colorate di blu, di una certa situazione. Quindi vede che questa unione genera qualcosa, insomma, se non artistico, comunque di creativo, e quindi sono più legato anche a questa. Ma comunque tutte per me rappresentano dei momenti in cui io, con la macchina fotografica, andavo in giro di sera e fotografavo con discrezione, perché lei sa che fotograficamente ci sarebbero degli obblighi, cioè privacy, e qui non ci sono problemi perché la persona non si riconosce più neanche lei, quindi... Grazie.